Monta la polemica a Crosia sulla dichiarazione di dissesto finanziario approvato dal Consiglio Comunale nei giorni scorsi. Lo scontro è tra presente e passato, tra la Giunta Russo e i suoi predecessori che hanno governato la comunità nella fase antecedente al 2014. In particolare le accuse a distanza sono tra il Sindaco Antonio Russo e l'ex Gerardo Aiello. La situazione debitoria nel 2014 era di circa 20 milioni di esposizioni, tra debiti fuori bilancio, massa passiva, che noi abbiamo onorato, abbiamo pagato debiti fuori bilancio e abbiamo fatto un pieno di risanamento. La pandemia chiaramente è quella che ha determinato anche questa scelta. Mi dispiace che si è montata una polemica in questi giorni su un fatto che andava già dichiarato nel 2014. Chiamata in causa dunque la Sindaca Turaiello per l'amore di Savanzo accumulata nella sua gestione. Pronta la replica. Non c'era assolutamente né necessità né volontà anche di dissestare il Comune nel 2014 e non l'abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto volutamente. Dal 2014 ad oggi due consigliature guidate da questo signore hanno determinato quello che è successo. Poi l'invito in una pubblica piazza come atto di trasparenza. Si venga a confrontare con il sottoscritto che non ha né timore né scheletri negli armadi.